Grazie Questo è un centro di eccellenza, bello, storico, con un grande spirito, con una cultura, una disciplina, una passione, è un centro di eccellenza e quando la Ferrari e l'Accademia stanno insieme dimostrano anche l'eccellenza dell'Italia e di questa terra. Grazie Grazie Launching it Vikilari 3 La Chi Gli Gli Speria Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti